Con il numero uno, con la sua! Con il numero 36, Matteo! Con il numero 5, Madeline Nuelo! Con il numero 6, con la sua! Con il numero 3, Matteo! Con il numero 19, Madeline Nuelo! Con il numero 14, Madeline Nuelo! Con il numero 4, Madeline Nuelo! Con il numero 20, Giuseppe! Con il numero 24, Gianluca! Con il numero 69, Riccardo! Buongiorno! A disposizione! Con il numero 20!